E' un piacere annunciare la migliore attrice protagonista della manifestazione 2011 della venticinquesima rassegna teatrale San Costantinese va a Torsola Cosentino della compagnia teatrale e nottrio pugliese premia il nostro artista compensano delle fama grazie a te in bocca al lupo per il tuo futuro da protagonista attrice grazie a te e la tua famiglia grazie per il direttimento per l'iniziativa che ci avete fatto fare ieri sera la regia di questa edizione a parere della gioia è assegnata a Carmelo Genovese compagnia teatrale nottrio pugliese il comandante salvatore ferrara grazie un successo che forse mancava da molto tempo e quest'anno la giuria ha voluto premiare con la commedia in natali che mi vini la compagnia grazie a teatrale nottrio pugliese grazie a tutti quanti voi io ovviamente come primo cittadino sono molto contento di avere così tanti cittadini così bravi a recitare perché Natale in casa copiello non è certamente una passeggiata per portarle in scena e portarle in scena in una piazza quindi io sono orgoglioso di avere questi miei concittadini che hanno recitato ieri sera hanno tenuto in creata la sedia per più di due ore oltre 1500 persone e quest'anno due anni fa abbiamo avuto due compagnie nessuno delle due aveva vinto nulla perché forse i tempi non erano maturi quest'anno questa compagnia a giudizio della giuria che è insindacabile nessuno influirà quindi mi sento di dire che se il premio l'avete ricevuto è perché l'avete meritato quindi vi ringrazio tanto noi vi consegniamo questo premio e la pausa è meritato perché sono nostri concittadini quindi mi pare che è il primo anno che vince una compagnia di San Costantino dai 25 quindi è un evento importante e speriamo di no speriamo di no consegna il premio il presidente della giuria Mimmo Mazzeo consegna il premio di partecipazione il carissimo simpaticissimo Pippo Prestia grazie a voi in bocca al lupo per il vostro futuro passo la parola la diciamo alla rappresentante della compagnia che vuole dire due parole no solo per ringraziare di cuore veramente la giuria e l'amministrazione comunale per averci voluto qui nel 25esimo anniversario della rassegna e non possono mancare i saluti a questo pubblico meraviglioso grazie veramente grazie 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 a voi avete fatto un incerto di premio stasera complimenti complimenti e continuate così